Repubblica Ceca-Turchia termina 1-2. Ebbene, la Repubblica Ceca perde contro la Turchia, strano ma vero, oggi 26 giugno 2024, europeo di calcio. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca, fare l'unico gol che giunge nel secondo tempo è stato il buon Thomas Socek, perdone la pessima pronuncia. Per quanto riguarda invece la Turchia, i due gol arrivano grazie a Karanoglu e Tosun. Da segnalare un cartino rosso per la Repubblica Ceca, a uscire stato Antonin Barak e sempre un cartino rosso, sempre per la Repubblica Ceca, a uscire stato Thomas Cioi. Le statistiche, andiamo un attimino a vederle, vediamo se corrispondono al risultato che c'è stato. Sì, corrispondono in pieno, infatti la Turchia ha più possesso di palla, molti più passaggi ed una precisione dei passaggi a livello percentuale maggiore, più alta, più elevata rispetto alla Repubblica Ceca. Complimenti dunque alla Turchia, strano ma vero, qualcuno pensava che la Repubblica Ceca andasse a vincere contro la Turchia, non è stato così. La Turchia infatti ha stranito. Bene, complimenti dunque ai Turchi, peccato per la Repubblica Ceca. Iscrivetevi e commentate, questo match è stato esplodato oggi, 26 giugno del 2024, si tratta del gruppo F europeo di calcio. Grazie a tutti.